24 ore di maltempo sono attese per domani in tutto il Veneto. La regione ha diramato il bollettino per comunicare i livelli di allerta per montagna e pianura. Nelle terre alte già a quota 1000 è prevista la neve, mentre in pianura, in tutta la marca, la pioggia arriverà copiosa e battente a tratti. Avrà carattere di rovescio. Si parla intorno ai 50 mm, queste sono previsioni, 50 mm in 24 ore vogliono dire 50 litri in teoria di acqua, 50 litri di pioggia per ogni metro quadro di suolo. Montagna naturalmente, poi già a quota e basse, diciamo al di sotto dei 1000 metri, naturalmente questa sarà neve e anche queste come previsione diamo intorno ai 20 cm di neve. Lo stato di criticità sarà arancione, quindi alto per rischio idrogeologico e giallo per rischio idraulico in tutta la marca, stato di attenzione anche per i venti molto forti. Naturalmente il terreno non farà in tempo ad assorbire tutta la pioggia, c'è il problema del dilavamento, quindi non va a nutrire molto bene il terreno in profondità. Chiaramente, fortunatamente questo durerà poco, 24 ore, quindi pioggia che dovrebbe interessarci per tutto domani. Piogge abbondanti che scenderanno copiose, ma solo per 24 ore la perturbazione si sposterà verso sud, il ciclone proveniente dalla Francia si sposterà verso i Balcani. Già per mercoledì è previsto il sereno, le minime si abbasseranno gradualmente, l'inverno è in arrivo.